Auletta, migranti, la cooperativa abbandona l'idea del trasferimento. Il capogruppo Cocozza parla di vittoria dell'amministrazione. Golfo di Policastro, blitz antiabusivi sulle spiagge e 30.000 euro di sanzioni. Padula, il 3 agosto, il quinto appuntamento con Camera in Tour, protagonista la Certosa di San Lorenzo per il concerto Lucio in Contra Lucio. Teggiano, tantissimi bambini in piazza Portello per assistere allo spettacolo di Spider-Man promosso dall'associazione Amodiano. Casella in Pittari, divertimento e spettacolo per la seconda edizione della Chip Crazy Rise. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Apriamo con la vicenda migranti di Auletta. Sabato scorso la rinuncia della cooperativa a trasferire i migranti in un'altra zona del comune. Accolto l'appello del sindaco e dei residenti di quella zona. Per il capogruppo di maggioranza Cocozza è una vittoria dell'amministrazione e del sindaco. Dopo le polemiche e le lamentele legate al possibile trasferimento dei migranti dall'attuale struttura in località Lontrano, in un'altra in località Cardineta, che aveva tirato in mezzo anche il consigliere Antonio Adesso, accusato di conflitto di interessi, il proprietario della nuova struttura di accoglienza e un parente diretto, sabato mattina è arrivato il dietrofront della cooperativa Namastè che si occupa della gestione dei migranti. Un incontro tra il primo cittadino e i referenti della COP che ha portato alla rinuncia da parte di quest'ultima di procedere ad un trasferimento. Una vittoria per i residenti della zona che avevano sollecitato il sindaco e avevano evidenziato un possibile pericolo di sicurezza visto la vicinanza della nuova struttura ad un'abitazione in cui vivono minori. Grande soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale capogruppo di maggioranza Onofio Cocozza che ha sottolineato come quanto è avvenuto sabato mattina e la smentita di quanti in questi giorni hanno tentato di far passare l'inerzia dell'amministrazione, l'incapacità e il poco peso politico del sindaco nonché la smentita che l'amministrazione persegue interessi personali e tace su eventuali interessi di alcuni suoi consiglieri. Una vittoria netta di questa amministrazione prosegue Cocozza e del sindaco stesso che ha smentito tutti coloro i quali non aspettano altro che metterlo in difficoltà ma che hanno fatto l'ennesima magra figura. Mentre questi personaggi passavano il tempo a giocare sui social aggiunge il sindaco lavorava sulla questione e i risultati sono arrivati. Questa è l'ennesima dimostrazione che il sindaco conclude il capogruppo Onofio Cocozza da loro definito una macchietta invece sta sempre più dimostrando che è l'unica alternativa per questo paese. Chiuso per il momento questa vicenda, quello che emerge tuttavia anche dalle dichiarazioni dai primi minuti della conferenza stampa del sindaco Pessolano di giovedì scorso e dal fermento social di queste settimane e come ad Auletta si è già iniziata la campagna elettorale che porterà al rinnovo del Consiglio Comunale nella 2019. Passiamo ora alla cronaca. Un attento servizio di controllo teso al contrasto dei reati di larga diffusione è stato effettuato lo scorso fine settimana dalla compagnia Carabinieri di Sapri arresti, denunce per droghe e pesanti sanzioni contro i venditori abusivi sulle spiagge. 30 sono stati militari impiegati lo scorso fine settimana dalla compagnia Carabinieri di Sapri comandata dal capitano Michele Zitiello per un servizio coordinato teso al contrasto dei reati di larga diffusione che in questo periodo estivo nelle zone balneari sono rappresentati principalmente dallo spaccio di droga e dall'abusivismo commerciale sotto l'ombrellone. I militari della stazione di Sapri guidati dal maresciallo maggiore Pietro Marino hanno eseguito una serie di controlli antiabusivi sulle spiagge della zona e diversi extracomunitari sono stati beccati a svolgere l'attività commerciale in modo irregolare. Gli abusivi si sono visti sequestrare la merce che era pronta per essere venduta e sono stati multati con pesanti sanzioni che ammontano a circa 30.000 euro. Sempre nell'ambito dello stesso servizio coordinato a Torri Orsai i militari della stazione locale comandati dal luogotenente Domenico Nucera hanno arrestato un 53enne originario di Celle di Bulgaria che era evaso dagli arresti domiciliari cui era stato sottoposto e a cui è prontamente tornato in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Diversi poi controlli degli uomini del capitano Zitiello presso le località costiere di Policastro, Scario e Palinuro a seguito dei quali i militari del nucleo radiomobile hanno deferito due persone fermate alla guida in stato di ebrezza e segnalato 15 giovani trovati in possesso di hashish, marioane e cocaina. Ancora cronaca, un cortocircuito avvenuto probabilmente nel quadro elettrico dell'attività commerciale sarebbe all'origine dell'incendio divampato sabato pomeriggio in un negozio tessile a Capaccio Scalo. Vediamo i dettagli. Tanta paura sabato scorso a Capaccio Scalo dove un incendio divampato all'interno di un negozio di ingrosso tessile sito lungo via Italia 61. Le fiamme sarebbero state originate da un cortocircuito avvenuto probabilmente nel quadro elettrico dell'attività commerciale dopodiché in pochi istanti il rogo ha divorato completamente la struttura provocando una fumeta nera altissima visibile da diversi chilometri anche dai comuni circostanti. Al momento dell'accaduto sono state subito evacuate le abitazioni circostanti la struttura commerciale colpita dalle fiamme. Sul posto erano presenti i vigili del fuoco, carabinieri, guardia costiera, polizia locale, protezione civile e comunale. Quest'ultima, con il responsabile Antonio Merola, ha coordinato le operazioni di evacuazione dei palazzi in un raggio di circa 700 metri. Presente sul posto anche il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Palumbo. Le persone hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni solo una volta che l'incendio era stato domato. Operazione non facile per i vigili del fuoco che hanno impiegato oltre due ore per spegnere le fiamme. La strada interessata da rugo, un corso notevolmente trafficato, considerata la presenza di numerosi negozi, è stata chiusa al traffico veicolare. Tanti curiosi che si sono riversati in strada per cercare di capire cosa stesse accadendo. Tanta preoccupazione anche per le presenze di bombole che sono state allontanate per evitare che scoppiassero. Preziosa la collaborazione di alcuni cittadini che hanno messo a disposizione le proprie autobotti per spegnere l'incendio. Ingenti invece i danni provocati dal fuoco. Infatti, oltre ad essere stati distrutti il negozio tessile e il vicino deposito della ferramenta, anche l'intero palazzo ha subito dei danni. Fortunatamente non si sono però registrati feriti, ma il fumo ha provocato in alcune persone presenti sul posto delle intossicazioni di lieve entità, soccorse poi dai volontari della Croce Rossa. Nelle prossime ore, il personale dell'ARPAC, afferma il consigliere comunale con delega al monitoraggio ambientale Giovanni Piano della città di Capaccio Pestum, effetterà i dovuti accertamenti ambientali al fine di determinare eventuali criticità. Gli esiti saranno quindi comunicati all'asla competente per eventuali e conseguenziali provvedimenti. Attendiamo i risultati senza generare allarmismi, fanno sapere da Palazzo di Città che in questa fase potrebbero risultare solamente controproducenti. Colgo inoltre l'occasione, fa sapere il consigliere Giovanni Piano, anche per esprimere la massima solidarietà a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale alle famiglie colpite dall'incendio. Gemma D'Angelo, l'87enne, rimasta vittima dell'incendio dello scorso 18 luglio a Camerota e morta al momento dell'incendio causato da un cortocircuito. In casa c'erano l'87enne, il figlio, la nipote e la nuora Rosa, accusati, deceduta dopo tre giorni. Gemma D'Angelo era al centro grandi ustoniati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. I funerali si terranno domani, martedì 31 luglio, a Camerota. Cambiamo argomento. Domani a Sala Consilina si terrà una seduta di consiglio comunale. sette i punti all'ordine del giorno, tra cui la variazione al bilancio di previsione finanziario, la modifica al piano triennale delle opere pubbliche e la candidatura della nuova sede del centro operativo comunale. Si terrà domani sera, mercoledì 31 luglio alle 19, in sessione straordinaria, la seduta pubblica del Consiglio Comunale a Sala Consilina. In questa occasione saranno argomentati diversi punti all'ordine del giorno. Sette i punti di discussione. Letture d'approvazione dei verbali della seduta precedente, comunicazione di prelevamento del fondo passività potenziali eseguito con deliberazione dell'aggiunta comunale 127 del 2018. E ancora variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ai sensi dell'articolo 175,4 del Decreto Legislativo 267 del 2000. Prevista anche la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 185 del 19 luglio 2018. Tra i temi sul tavolo di discussione è anche la modifica al programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018. Si tratta del bando nazionale relativo tra l'altro allo studio di vulnerabilità sismica sugli edifici pubblici. A Sala si parla delle scuole dei Visciglietti e di Sagnano, fanno sapere da Palazzo di Città di Via Mezzacapo. Domani sera si discuterà anche del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ex articolo 174 del Decreto Legislativo 267 del 2000, dell'Assistamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'Esercizio 2018. Infine, come ultimo punto, l'Assise di Unita parlerà dell'aggiornamento al piano di protezione civile approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 40 del 30 novembre 2015. Nella variazione di bilancio discuteremo anche della candidatura dell'ex macello comunale da adibire a nuova sedia operativa di protezione civile, fa sapere il Sindaco Francesco Cavallone, come deposito di attrezzature della protezione civile. Sabato scorso presso la Biblioteca Comunale di Polla è stata presentata la nuova Proloco che nasce dalle Ceneti della Vecchia, che ricordiamo è stata radiata dalla Regione Campania. La promozione del territorio, il sostegno, il supporto alle attuali associazioni locali e agli eventi che si realizzano, questi principi che ispirano il nuovo sodalizio che ha eletto Corrado Pecci presidente. Ascoltiamo. Ringrazio tutti per la carica che mi è stata affidata dai nuovi consiglieri e cerchiamo di fare qualcosa per il nostro amato paese. La Proloco è un'associazione che nasce in tempi addietro, al di là delle persone che vanno a costituire volta per volta questa associazione, è un'organizzazione importante che dovrà prendersi cura della promozione del territorio. Spero che anche questa nuova fase di organizzazione porti dei frutti tangibili, delle azioni concrete non solo per il territorio, ma che si possa spingere anche ad una ipotesi di rete delle Proloco, quindi al di là di quella nazionale della UMPLI che sappiamo essere già molto attiva e molto importante che si possa spingere a superare i localismi e a creare una politica per il territorio, a coadiuvare anche i comuni o le istituzioni sovracomunali. Credo che sia importante cercare di aprire ora questa nuova fase ad un'integrazione anche a livello comunale, considerando le tante associazioni, le tante iniziative, cercando di dare uno stimolo, un supporto, se possibile, a tutto quello che già accade, a tutto quello che già avviene, senza fretta cercare di insieme creare un percorso, insieme al Comune, visto che la Proloco rappresenta dal momento della sua istituzione una sorta di appendice poi dell'istituzione comunale. Venerdì 3 agosto a Padula, nella spettacolare Certosa di San Lorenzo, un grande concerto realizzato con la regia di Sebastiano Somma. Si tratta di un appuntamento che rientra negli eventi promossi dalla Camera di Commercio di Salerno con il supporto del Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano e Alburni dal titolo Camera in Tour e che racconta la musica dei due grandi e immortali Lucio della musica italiana. Le canzoni di Lucio Battisti e Lucio Dalla, venerdì 3 agosto a partire dalle ore 21, saranno presentate da altri rinomati musicisti italiani per un concerto di grande spessore. Un evento di assoluta importanza che vuole essere anche un segnale di forte rilancio per il territorio nel suo complesso. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione. Ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato. Sono sei eventi che come Camera di Commercio abbiamo pensato di offrire ai turisti di tutta la provincia per rendere più piacevole il soggiorno. Sono sei eventi, il quarto si terrà qui alla Certosa di Padula. Crediamo che la Certosa di Padula sia un patrimonio del nostro territorio che ci consentirà sicuramente di portare avanti un discorso progettuale sul turismo che quest'anno è in forti incrementi e crediamo che grazie alla Certosa e tante altre situazioni come questa potremo sicuramente incrementare per gli anni futuri. Credo che il parco, che è già tenuto tanto a far sì che questa manifestazione la svolgessimo qui sul territorio, sta facendo veramente tanto per il nostro territorio. Cosa fare? Sicuramente cercare di investire ancora di più nel turismo, cercare di dare un'ospitalità quanto più possibile piacevole e convortevole all'ospite. Poi tante cose non dipendono da noi ma dipendono da tutte le istituzioni che insieme devono parlare perché crediamo che solo se si fa rete, solo se si creano delle sinergie e si potrà portare avanti un'idea di turismo favorevole e vincente. Il Presidente Pellegrino quando gli è stata prospettata l'ipotesi di collaborare alla realizzazione di questo evento l'ha sposato in maniera, l'ha fatto subito su all'iniziativa e con grande entusiasmo ha partecipato e ha collaborato appunto alla sua realizzazione. Naturalmente profonde tutto il suo impegno sia l'ESU sia lui che tutto il Consiglio Direttivo in diverse azioni di valorizzazione per cui nel momento in cui è stata ipotizzata l'evento qui presso la gestione di Padula sicuramente l'ha ritenuto meritevole della sua realizzazione. È un evento importante che si unisce ai tanti eventi di promozione e di valorizzazione che l'amministrazione comunale di Padula sta portando avanti. Ringrazio anche il Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni che collabora all'evento insieme alla Camera di Commercio per valorizzare sempre di più la certosa che dal 1998 è patrimonio mondiale dell'umanità. Lo spettacolo di venerdì 3 è particolarmente importante perché vedrà la regia di Sebastiano Somma un nome importante a livello anche internazionale e quindi auspico una rete sempre più importante tra i comuni, tra gli enti e tra tutti coloro che hanno a cuore la valorizzazione di questo immenso patrimonio. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio. Sabato scorso a Maratea, ospite d'onore delle giornate del cinema lucano, la grande diva Sofia Loren. Sono stati in pochi a poter godere del privilegio di vederla da vicino tra questi il maestro pasticcere Giuseppe Manilia. La grande diva del cinema Sofia Loren è tornata nel sud Italia, poco distante dalla sua Napoli e precisamente a Maratea dove l'amministrazione comunale le ha conferito alla cittadinanza onoraria in occasione delle giornate del cinema lucano. Tutta Maratea e Ari Limitrovi è pronte ad accogliere la diva tra le più grandi star del cinema mondiale ma in pochi hanno avuto il privilegio di starle accanto e di poterla ammirare da vicino. E tra questi pochissimi fortunati è anche il maestro pasticcere di Montesano Giuseppe Manilia, titolare della pasticceria Orchidea, a cui è stata concessa la possibilità di regalare alla Sofia Nazionale una delle sue squisite torte. Ad aver regalato un'altra golosità è stato anche il maestro gelataio di Maratea Emilio Pansardi, titolare della gelateria Pansardi di Porto di Maratea, che ha donato all'attrice un gelato a forma di rossetto. Giuseppe Manilia, tra i più rinomati maestri pasticceri italiani, ha voluto invece omaggiare la più grande attrice del cinema internazionale con una delle sue specialità assolute, la torta rosemary, che mette insieme, creando un gusto delizioso, il cioccolato bianco e il pistacchio. Un regalo speciale che Sofia Loren, pur non concedendosi a molti durante le giornate del cinema lucano, ha voluto comunque ricevere personalmente, consentendo così ai maestri Manilia e Pansardi di portarle direttamente sul palco e loro doni. Due regali che si sono aggiunti al conferimento della cittadinanza onoraria e al premio alla carriera che gli organizzatori delle giornate del cinema lucano hanno voluto quest'anno riconoscere a Sofia Loren, tornata a Maratea, dove aveva girato alcune scene del film C'era una volta, ambientato nella certosa di San Lorenzo a Padula. Sulle tracce di Filippo, una passeggiata nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, animata dagli attori della compagnia teatrale Alta Quota, che hanno raccontato momenti della vita quotidiana di Filippo Gagliardi e dei luoghi della sua Montesano. L'appuntamento ha preso il via sabato pomeriggio alle ore 18, ed è stato replicato ieri, lo sarà oggi. Dopo l'arrivo di Filippo in Cadillac, in Piazza Gagliardi, gli spettatori sono chiamati a seguire i personaggi, i ricordi e i luoghi della vita di Don Felipe. Un racconto tra leggenda e realtà di uno dei personaggi più famosi dell'Italia degli anni 50 e 60. Sì, infatti per me è un onore aver trascritto, preso dal libro di Felice, con un grande orgoglio, tanto però abbiamo dato un taglio nuovo e con una nuova denominazione, che è un sogno, un viaggio, un ritorno. Il sogno tratta del sogno che questo Don Filippo Gagliardi aveva da bambino, e quindi lui sognava sempre di viaggiare, praticamente di liberarsi dalle catene della povertà, che attenagliavano in quel momento, in quel periodo storico, tutta l'Italia e anche Montesano. E quindi lui aveva questo desiderio e noi lo abbiamo estrapolato, quindi partendo dal sogno, e che non si è mai dimenticato del suo paese. Quindi per me è un orgoglio ancora maggiore proprio ricordare questo grande personaggio che ha fatto così tante opere per il nostro paese. E quindi noi da un paio d'anni abbiamo cominciato a lavorare su questa commedia con un gruppo di attori, di amici. Mi sono fatto l'idea che parecchi giovani sono tutt'oggi emigranti in questo paese. E qui si parla sempre di storia dei cistari, degli abbatemarchi, dei cerbasi, però la storia vivente, la favola e Don Filippo. Lo lasciamo stare, però è un sogno anche per i ragazzi, perché lui è partito dal nulla ed è tornato con una fortuna. Ai posteri l'ardua sentenza, se si è saputo amministrare o no. Comunque è stato un personaggio. utile e di esempio per le future generazioni. Mirabile è una grande occasione per Montesano da un punto di vista turistico, da un punto di vista commerciale e come potete per vedere la piazza è sempre piena a cogliere e a raccogliere queste iniziative. Quali sono gli eventi futuri? Ci sarà la presentazione del progetto Atlante delle tipicità, un atlante interattivo in cui attraverso un click sarà possibile conoscere tutte le tipicità di Montesano e capire anche quelle che sono le caratteristiche. Ci sarà la mostra delle erbe officinali e infine ci sarà il grande concerto di Enrico Ruggeri il 3 agosto. Ci sarà poi il grande pasticciere, il grande maestro Giuseppe Manilia che preparerà e sta organizzando uno show cooking, quindi sarà per la prima volta forse presente e a dimostrare quello che è il suo operato. E poi ci sarà un tavolo di ricognizione per ripartire, rilanciare quelli che sono poi i progetti futuri perché Mirabile non finisce qui ma continuerà. Domani, martedì 31 luglio alle ore 19, nell'aula consigliare di Polla, si terrà la cerimonia di accoglienza delle delegazioni straniere dei diversi comuni francesi, tedeschi e belgi con cui Polla effettua scambi culturali e gemellaggi da oltre 35 anni. Sindaci, amministratori e gruppi giovanili saranno ospiti della comunità fino al 7 agosto. È un grande evento per la comunità pollese, dichiara il sindaco Rocco Giuliano, un progetto che l'amministrazione comunale porta avanti con orgoglio e impegno grazie all'intensa collaborazione del Comitato del Gemellaggio e delle famiglie pollesi con la finalità della fratellanza tra i popoli e per educare le nuove generazioni all'amicizia e alla coscienza europea per apprezzare l'Europa come la nuova patria da amare, rispettare e proteggere. Cambiamo argomento. Sono stati numerosi e tutti entusiasti i bambini che sabato scorso sono arrivati in Piazza Portello a Teggiano per assistere allo spettacolo dell'Uomo Ragno che per la prima volta è arrivato nel Vallo di Diano grazie all'iniziativa dell'Associazione Amodiano. Una grande festa e tanto divertimento per i bambini che sabato scorso hanno assistito allo spettacolo di Spider-Man voluto dall'Associazione Amodiano e realizzato grazie al sostegno dell'Associazione Monte Bruno Giovani e di diversi altri sponsor che hanno voluto far mancare il loro sostegno all'iniziativa dedicata ai bambini. Lo spettacolo è stato realizzato in Piazza Portello a pochi passi dai piccoli fan del supereroe che hanno potuto assistere da vicino alla prima assoluta nel Vallo di Diano dello spettacolo proposto dalla Falu Animazione che racconta le avventure dell'Uomo Ragno. Si consolida in questo modo la collaborazione tra l'Associazione Amodiano presieduta da Maria Rita di Sarli e l'associazione che già in altre occasioni ha avuto modo di raggiungere Teggiano per collaborare con iniziative dedicate ai bambini organizzate all'interno del Castello Macchiaroli. L'Associazione Amodiano così ha voluto regalare ai bambini una serata speciale vivendo da vicino le avventure di Spider-Man. La nostra associazione si è molto impegnata per questo evento abbiamo fatto altri tipi di eventi di origine diversa questa volta ci siamo voluti dedicare ai bambini regalandogli un'atmosfera nuova, un'atmosfera diversa con Spider-Man che farà uno spettacolo veramente a parte originalissimo, nuovo nel territorio perché in esclusiva qui a Teggiano per la prima volta verrà Spider-Man. A rendere possibile la serata e sono stati in particolare gli sponsor dell'Associazione Montepruno Giovani rappresentata dal Presidente Antonio Mastrandrea che ha ricordato l'impegno prima di tutto della Banca Montepruno a regalare momenti di serenità ai bambini per aiutarli a crescere sani ed equilibrati. È bello essere qui stasera soprattutto perché ci sono tanti bambini che si stanno divertendo è lo scopo anche della Montepruno Baby che poi è un club della nostra associazione Montepruno Giovani è bello vedere tanta allegria, tanta felicità soprattutto tanto divertimento anche perché il personaggio comunque attira tanti bambini è lo scopo della nostra associazione che grazie al supporto della Banca riesce sempre a creare attività sul territorio attività che sono anche di natura ludica come quella di stasera per noi è un piacere oltretutto collaborare con questa associazione che oltretutto è un'associazione composta da altri giovani e quindi diciamo è un connubio abbastanza interessante quello che stasera riusciamo a promuovere qui a De Giano Grande spettacolo e puro divertimento per la seconda edizione della Chip Crazy Rice la Corsa delle Carrette organizzata dall'Associazione Locos è andata in scena ieri a Casella in Pittari una manifestazione iniziata al mattino con le prove libere poi la pausa pranzo la pioggia del primo pomeriggio ha allarmato gli organizzatori ma alle 17.30 regolarmente è iniziata la competizione 11 carrette in gara e non sono mancati piccoli incidenti senza però gravi conseguenze lo spettacolo è stato inframezzato dalla musica dell'Assassin Funky Street Band in serata il divertimento è proseguito con la gara extreme con 5 carrette messe a disposizione dell'associazione che hanno permesso di provare l'emozione della Chip Crazy Rice ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato Si è conclusa con un grandissimo successo questa seconda edizione della Chip Crazy Race a Casella in Pittari è andata in scena la Corsa delle Carrette che ha visto due momenti al mattino ci sono state le prove libere a pomeriggio la gara vera e propria con il successo della carretta guidata dal pilota di Palmi ovvero Felice Larocca con il tempo di 1.49.71 un tempo che visto anche il tracciato allungato di diverse centinaia di metri rispetto allo scorso anno rappresenta un vero e proprio record per questa manifestazione la pioggia non ha interrotto nemmeno questa gara c'è stato qualche ritardo ma nulla è cambiato rispetto a quella che è stata la marcia di avvicinamento e di svolgimento della manifestazione una manifestazione che è stata appunto ha raccolto tanto pubblico e che ha rappresentato l'ennesimo successo per l'associazione Locos come testimoniato ai nostri microfoni dal presidente Nicola Rizzoli Era l'altro ieri che facevamo l'intervista poco più in alto ed eravamo entusiasti la Chip Crazy Race Sopbox come la vogliamo definire perché è una gara vera e propria di Sopbox è andata bene il tempo non tanto ci ha aiutato però fortunatamente si è asciugato tutto i piloti si sono divertiti anche quest'anno abbiamo allungato il percorso sono scesi molto più veloci perché hanno chiuso in 1.50 e dai è spettacolare ci stiamo divertendo devo fare un doveroso ringraziamento a caselle ai casellesi perché ci danno una grandissima mano senza di loro la Chip Crazy Race non sono frasi fatte ma effettivamente è così per come puoi guardare puoi vedere ci sono tantissimi ragazzi chiudiamo le strade in modo ordinato per la grande collaborazione che ci danno tutti poi dobbiamo ringraziare gli sponsor perché senza di essi sicuramente non si poteva fare niente e ci danno ci danno grande entusiasmo anno dopo anno e poi l'associazione Locos che i ragazzi dell'associazione sono sempre sono sempre grandi a fare questo vedi questo è tutto l'entusiasmo in serata dopo lo spettacolo del cabaretista c'è stata poi la versione extreme ovvero le carette guidate da semplici appassionati giù in discesa fino ad arrivare alla piazza principale del paese per la conclusione di questa seconda edizione della Chip Crazy Race che sicuramente avrà una sua terza edizione il prossimo anno termine a qui il nostro telegiornale vi ringrazio di essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti